Proseguono a pieno ritmo i lavori per il restauro della pavimentazione in marmo e dei lucernari della Galleria Umberto I, un intervento avviato a marzo scorso che riguarda una superficie di 4.700 metri quadri e condotto suddividendo l'aria interessata in otto subcantieri per ridurre al minimo i disagi. È stato così garantito il flusso pedonale attraverso i quattro varchi della Galleria e consentito l'accesso alle attività commerciali presenti. Proseguono i lavori di restauro della pavimentazione monumentale della Galleria Umberto. Il lavoro sta andando bene, è un'attività delicata data la complessità e la delicatezza del manufatto. Abbiamo preparato nell'ambito del progetto anche una serie di linee guida per la gestione di quello spazio a partire dalle attività di carico e scarico delle merci ma anche di occupazione del suolo legate ai tavolini, alle sedie delle attività commerciali per proteggere il pavimento. Redatto per il comune dalla soprintendenza archeologia, belliarti e paesaggio, il progetto esecutivo di restauro prevede anche la pulitura e il consolidamento dei materiali lapidei. Un'importante operazione di protezione finale ne assicurerà poi la durata nel tempo e l'omogeneità della superficie. La Galleria dovrebbe nel giro di pochi mesi effettivamente cambiare un po' il tono dal punto di vista della gestione degli spazi. Tra gli interventi particolarmente delicato è il recupero dei 152 lucernari calpestabili collocati nella pavimentazione. Per ciascuno è prevista la sostituzione del vetro esistente con il ripristino della sottograta e la pulitura degli elementi soggetti a corrosione. Mentre procedono i lavori di restauro del valore di un milione e 600 mila euro va avanti l'iter amministrativo per l'installazione dei cancelli d'ingresso alla galleria prevista per la fine dell'anno. Siamo in via di ultimazione del progetto esecutivo dei cancelli che dovrebbero chiudere i varchi di via Santa Brigida e di via Verdi. Non ultimo, è un aspetto importante è la chiusura serale attraverso un cancello che sempre il Comune si incarica di realizzare dell'Angiporto che è un altro spazio particolarmente critico per gli usi soprattutto notturni da parte di popolazioni che si trovano in quella zona.